nonno franco va a casa e gioca con la piccola vittoria bellissima e lui è alla moda segue quella della suocera chiara ferragni scusa ma perché c'hai due paia di occhiare in testa ok si vede che sei il cognato della ferragni vittoria così pettinata è veramente bella e con il nonno che ci gioca è ancora più bella ok